Ciao amici benvenuti nel mio canale guarda e impara. Ande Erce e le Burak Deniz tornano sugli schermi di nuovo insieme dopo la serie tv Ask Laftanu Yammaz. Quando inizieranno le due serie straniere? Quale sarà il soggetto delle due serie straniere? Chi sono gli attori delle due serie straniere? Ci chiediamo tutti le risposte a domande come queste. Ande Erce e le Burak Deniz stanno per riapparire con un nuovo progetto, che ha riscosso grandi consensi da parte del pubblico e non vede l'ora di tornare insieme sugli schermi. Due stranieri, che sarà trasmesso su Fox TV, riunirà di nuovo giovani partner. Sono iniziate le riprese della serie Two Foreigners, in cui Ande Erce e le Burak Deniz reciteranno insieme. Two Foreigners, che continuerà a essere girato per tutta l'estate, dovrebbe incontrare il pubblico nella seconda o terza settimana di settembre 2023 sugli schermi di Fox TV. Due serie TV straniere racconteranno la storia d'amore di Leila e Kenan. Leila è un procuratore di successo e trascorre la sua vita cercando giustizia e fornendo giustizia. Kenan, d'altra parte, è un personaggio televisivo con disturbo di personalità multipla e può assumere un carattere diverso in qualsiasi momento. Leila e Kenan si incontrano a causa di un caso di omicidio e iniziano a piacersi e ad interessarsi l'uno dell'altro. Tuttavia, entrambi devono affrontare i propri problemi. Leila riuscirà a vedere il vero volto di Kenan? Riuscirà Kenan a farsi amare da Leila? Vedremo le risposte a queste domande all'inizio della serie. Oltre a Ande e Burak, nella serie ci sono attori molto importanti e nomi a sorpresa. Ande Hercel, che ha preso parte al set della serie TV Two Foreigners e ha partecipato a collaborazioni di marca con varie agenzie promozionali, è entrata nuovamente in un intenso periodo lavorativo. Secondo l'affermazione della bella attrice, i suoi studi stanno andando bene e continua la sua formazione all'università. Ande Hercel dice che ha in programma le vacanze estive, ma la sua priorità è il lavoro. La famosa attrice ha dichiarato, ho grandi programmi per le vacanze, ma la mia priorità è lavorare. Sono bravo al lavoro. Sta andando, facciamola finire bene, poi vedremo a detto.